Nessun giurato è stato scelto alla fine del primo giorno dello storico processo dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il pagamento in nero alla pornostar Stormy Daniels. Almeno 50 potenziali giurati sono stati immediatamente esonerati dall'aula del Tribunale di New York in quanto ritenuti non imparziali. Si tratta del primo processo penale a carico di un ex presidente nella storia degli Stati Uniti. Trump è imputato per il pagamento in nero di 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels e per un altro pagamento alla modella di Playboy Karen McDougal affinché non rivelassero di aver avuto rapporti sessuali con lui. Trump ha però negato di aver consumato i rapporti sessuali con le due e ha definito il suo processo un attacco all'America.